Dedico questa vittoria alla mia città, Taranto, ai tarantini. Dico, fate rumore, fate valere i vostri diritti. Sono le prime parole di Antonio Diodato, 38 anni, tarantino, vincitore del settantesimo festival di Sanremo con il brano dal titolo Fate rumore. Nato ad Aosta, vissuto e cresciuto a Taranto, Diodato non si è mai staccato dalle sue radici, non ha mai perso il legame con la sua città. Da sempre, tra l'altro, è uno dei protagonisti del concerto del primo maggio. Abbiamo avvicinato uno dei suoi migliori amici. Quando vi siete sentiti l'ultima volta? Allora, ci siamo messaggiati qualche sera alla sera durante il duetto con i Nazili, più stretto naturalmente per il fisico, dicevamo. Quindi noi siamo felicissimi, ieri non ci credavamo, abbiamo aspettato fino alle tre per avere questa magnifica notizia e alla fine Antonio ce l'ha fatta. Ha fatto non rumore, ha fatto tantissimo rumore, ha fatto proprio un casino perché ha portato Taranto alla ribalta, finalmente per una cosa bella di qui andare tutti orgogliosi. È una soddisfazione perché in città è inutile ripeterci, grosse soddisfazioni non ne abbiamo, per cui aver visto un Tarantino primeggiare in una kermesse del genere non fa altro che sia piacere, anche perché può essere un veicolo trainante affinché anche la città si possa risollevare. Tarantino vince Sanremo e poi fa la dedica a Taranto. È stato un gesto molto importante per quello perché lui chiaramente è vissuto qui a Taranto e di conseguenza conosce chiaramente i problemi della città ed è stato un pensiero molto gentile. Bello, bellissimo, è una cosa stupenda, mi è piaciuto, è bravissima e sono contentissima. Noi abbiamo visto fino alle 2.20 apposta, io non lo vedo mai il festival, però questa volta per Dio dato abbiamo fatto rumore anche noi. È sempre stato impegnato a favore della città e lo apprezziamo anche per questo, ma soprattutto perché ha fatto una bellissima canzone e una bellissima esibizione. Complimenti!